Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con pesto di mandorle, pomodorini e feta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono per il pesto di mandorle, mandorle pelate, mandorle con la buccia, parmigiano, basilico, pomodori secchi, olio, sale e pepe, pasta, pomodorini, feta e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. In una ciotola mettere la feta e i pomodorini tagliati a metà. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le mandorle pelate e le mandorle con la buccia. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. aggiungere i pomodori secchi, le foglie di basilico, il sale, il pepe e l'olio. ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 7. il pesto è pronto, trasferire nella ciotola con la pasta i pomodorini e la feta, amalgamare bene e servire. pasta con pesto di mandorle, pomodorini e feta, grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti!